Grave lutto nel mondo dello sci e tutto lo sport italiano è morta a 37 anni Elena Franchini, ex sciatrice che anni fa era stata colpita da un tumore. Era nata nel 1985, aveva vinto una medaglia d'argento in mondiale in discesa libera nel 2005 e due successi in Coppa del mondo. Recentemente Sofia Goggia le aveva dedicato il successo di Cortina. Nel 2018 Elena aveva dato una bella notizia facendo sapere di aver vinto il tumore, poi purtroppo però la malattia è tornata. Oggi si è spenta assolato in provincia di Brescia. Lascia il marito, Denis. Grave.